La possibilità di estrarre idrocarburi dal giacimento del lago di Bomba si arricchisce di un altro capitolo. Legambiente e WWF chiedono che il nuovo progetto, presentato a inizio anno da una società statunitense, venga archiviato o in alternativa che sia data la possibilità di manifestare osservazioni in deroga alla scadenza dello scorso 27 marzo, anche perché, aggiunge Silvia Tauro di Legambiente, il progetto è privo di una documentazione importante commissionata dalla stessa società americana all'Università d'Annunzio. Oggi abbiamo chiesto che in mancanza proprio degli studi scientifici che erano stati richiesti il progetto venga archiviato e chiediamo che se si scelga quindi di andare avanti si dia comunque il tempo, nel caso questo studio venga realmente prodotto, perché ad oggi è solo commissionato, di poterlo quindi studiare ed osservare, non limitandoci alla scadenza del 27 marzo per le effettive osservazioni che ribadiamo ad oggi effettivamente non possono essere prodotte in maniera realistica proprio per la mancanza di questo studio. Come dire, criticità non superate secondo gli ambientalisti che da 15 anni sono oggetto di dibattito anche nelle comunità che vivono nella zona. Progetto ripetutamente bocciato negli anni sia a livello regionale che nazionale che ancora una volta viene riproposto senza dare risposte concrete su quelli che invece sono i rischi considerati a tutti gli effetti quindi innegabili dal punto di vista dell'induzione di fenomeni franosi, di terremoti, i rischi legati alla subsidenza e che rappresentano quindi un rischio per il territorio soprattutto considerando la presenza della diga che invece da 63 anni garantisce la produzione di energia veramente rinnovabile. Grazie a tutti.